Il tema che affrontiamo oggi è stato da voi, amiche soprattutto e amici, parliamo dei genitori, molto ma veramente molto richiesto. Dal resto l'attualità incombe sul tema dell'alcol correlato alle droghe, a questo mix micidiale. Pensate che l'ultima relazione al Parlamento sulle dipendenze fotografa ancora una volta un aumento del consumo di droghe, soprattutto tra i giovani, un ragazzo su quattro fa uso di droghe, quanto al mix droga e alcol, la vita cosiddetta sballata inizia prestissimo, pensate già a 13 anni. Sono numeri, sono dati che fanno impressione, che devono farci riflettere, numeri e dati che raccontano una realtà che va guardata in faccia. Con noi oggi abbiamo uno dei massimi esperti al riguardo. Parliamo del professore Emanuele Scaffato, che è direttore, leggo testualmente, dell'Osservatorio Nazionale Alcol, Centro Nazionale Dipendenza e Doping, parliamo dell'Istituto Superiore di Sanità. Il professor Scaffato sarà a nostra disposizione e ancora una volta lo ringraziamo, subito dopo la sigla. Il nostro benvenuto dunque al professor Scaffato, davvero di cuore. E' un piacere conoscerla personalmente e direttamente e ospitarla. E' un piacere mio. E faccio i complimenti perché quando si hanno ruoli importanti, se qualche volta si utilizza i mezzi di comunicazione che vengono messi a disposizione, sempre per bene della comunicazione. Allora, professore, ho introdotto con dati molto allarmanti l'argomento di oggi, soprattutto questa vita sballata già a 13 anni, percentuali di liceali che passano in modo preoccupante dal 18 al 27%, quindi nel giro di un anno. Viste le tante domande che tra poco le porrò, come introdurrebbe lei questo argomento? Ma mi piacerebbe dire che l'alcol non è un prodotto per i minori, tanto per incominciare. Questa è la cosa più importante da dire quando si parla di un organismo che non è ovviamente sviluppato, che non ha la capacità di metabolizzare l'alcol, che ha un cervello in evoluzione che è interferito dall'uso di alcol qualunque quantità, che prima incomincia ad utilizzarlo e maggiore sarà il rischio di un problema di alcol dipendenza, oppure più lunga l'esposizione ad un cancerogeno che poi anche in età giovanile può dare origine a un cancro. Quindi questo soltanto per dire che quando si parla di alcol di minori e di giovani si scopera che è un vaso di Pandora che quasi nessuno vuole guardarci dentro, perché dentro quel vaso poi bisogna anche arrivare alla verità. La verità che molto spesso invece è offuscata da dichiarazioni, da quelle che sono le fake news, oggi come oggi attraverso i social, ma anche attraverso i media. Non c'è giornata in cui non passa l'idea che l'alcol sia cool, sia trendy, sia glamour, sia fashion e che noi siamo tutti instagrammabili quando andiamo con un bicchiere in mano e questo chiaramente affascina i giovani. Parole verissime, Tranchant in suo commento come speravo fosse. Noi siamo qua per questo, è il professor Scaffato, per dare congure informazioni. Se poi l'alcol fa mix con le droghe, questo ragazzo su quattro che fa uso di droghe, ma quanto e cosa si consuma oggi in Italia? Se ci riferiamo alle sostanze, l'alcol è la più consumata in assoluto, perché è quella legale, quella che ha il dono dell'ubiquità. Apro il frigorifero e lo trovo a casa, apro il mobiletto degli alcolici nel salone, nel soggiorno, lo trovo, vado al bar e lo trovo, vado al supermarket e lo trovo, ed è di libera vendita, ci sarebbe un particolare, vietata vendita e somministrazione ai minori di anni 18, ma sono norme disapplicate. Non sono disapplicate in quanto c'è magari un adulto che dietro ad un bancone di un esercizio dà la bevanda alcolica al minore, sono disapplicate perché manca il controllo informale della società, perché non c'è un altro adulto che fa rilevare a quell'adulto che sta dando la bevanda alcolica che è illegale, che è criminale dare delle bevande alcoliche ad un minore di 18 anni. Esiste il codice penale, l'articolo 689 del codice penale, disapplicato. Esistono le leggi che risalgono appunto al codice Rocco addirittura nel 1930, abbiamo aggiornato attraverso le leggi del decreto Balduzzi quando era ancora ministro, incrementando l'età minima legale dai 16 a 8 e introducendo il divieto di vendita oltre che di somministrazione proprio per far capire a chi bene o male è responsabile della messa in disponibilità nelle mani di un minore dell'alcol che non è una bevanda qualsiasi, che non è un bene ordinario, ma che è un bene che nuoce estremamente ai minori e ai giovani. Quindi da questo punto di vista è chiaro che non è che si può fare riferimento soltanto a quello che è l'aspetto normativo, legislativo, come se fosse un ombrello che quando piove io lo apro e non mi bagno. No, siamo tutti bagnati perché l'ombrello non si apre e perché chiaramente queste leggi anche a fronte di scarso controllo che esiste per mezzi inidonei, per incapacità diciamo di finanziamenti sugli stessi controlli, ma anche un po' per cultura, se vogliamo, fa sì che l'alcol abbia un valore in cui la promozione del prodotto vale più della promozione della salute in questo caso. Noi immaginiamo la pubblicità delle bevande alcoliche, fateci caso, quando noi stiamo in televisione, le televisioni che cosa mandano? Le pubblicità di bevande alcoliche ci sono, come ci sono quelle dei detersivi o delle macchine, che sono le principali, e te lo propongono sempre in una maniera positiva, sempre in una maniera di successo, sempre in una maniera in cui c'è anche centrale il potere seduttivo della donna, che è la prima vittima tra l'altro, perché la donna è più vulnerabile all'alcol, perché non ha il sistema di alcol di idrogenasi pari a quello dell'uomo, la natura non dà pari opportunità, dovrebbero consumare mai più di una bicchiere di bevanda alcolica al giorno, sempre praticamente, da quando sono adulte, e quindi hanno sviluppato quella capacità magari di metabolizzare quell'unico bicchiere che l'organismo potrebbe consumare per non andare incontro ad un maggior rischio per la salute e anche, aggiungiamo, per la sicurezza, perché l'alcol è la prima causa di morte tra i giovani in Italia fino ai 29 anni, quindi neanche più tanto giovanissimi. E che significa che, mentre una volta dicevamo che superati i 24 anni, il binge drinking, il bere per ubriacarsi, proteggeva, anche perché la corteccia prefrontale, quella che ci fa sapiens, che ci fa controllati, si matura a quell'età, beh, invece il risk taking avviene fino ai 29 anni e prima causa di morte soprattutto tra i maschi, quindi c'è molto da lavorare sulla cultura, del rispetto non solo di se stessi, ma degli altri, perché quei morti, non solo sono i morti ubriachi, ma sono anche i morti che gli ubriachi fanno. E quindi subentra il concetto, appunto, di controllo informale della società, che se, io dico sempre ai ragazzi nelle scuole, se vedete un ragazzo della vostra età che si mette sul motorino dopo aver bevuto, prendetegli le chiavi e buttategliele, perché fate un, state facendo probabilmente un miracolo, gli state salvando la vita a lui e probabilmente a qualcun altro. Certo. Senta, professore, io ho trovato molto giusto lei abbia stigmatizzato legittimare il messaggio bevi responsabilmente e abusare dell'immatura capacità critica e di controllo del minore, condannandolo a rischiare. Lo trovo perfettamente esatto e sta ad indicare altre strade che devono essere percorse, non quella di continuare a dire bevi poco, bevi con responsabilità. Addirittura, noi giornalisti siamo stati strumenti di campagna e di comunicazione sul bere responsabile, lei se lo ricorda perfettamente. Assolutamente sì. Ed è il motivo per il quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sviluppato un manuale per i giornalisti che noi abbiamo pubblicato anche sul sito di Epicentro dell'Osservatorio Nazionale Alcol ed è di libera disponibilità in cui si sfatano tutte le fake news, però senza arrivare all'Organizzazione Mondiale della Sanità di cui sono modesto rappresentante attraverso il centro dell'OMS che bene o male qui in istituto trovo ospitalità da 22 anni basta guardare le linee guida nazionali le linee guida nutrizionali che sono fatte dall'organismo tecnico-scientifico del Ministero dell'Agricoltura e della Produttività oggi sovranità alimentare che dicono appunto che i minori di anni 18 non devono bere che gli uomini non devono superare i due bicchieri che una donna un bicchiere gli ultra 65 anni non più di un bicchiere perché perdono l'alcol di etrogenasi e poi hanno patologie e farmaci che interferiscono con il consumo di alcol esponendo un maggior rischio di tante situazioni e di tante condizioni è chiaro che se io mi rivolgo a un ragazzino che non ha ancora sviluppato la capacità razionale quindi quella di controllo superiore si chiama così perché fa la persona controllata in grado di riconoscere il rischio e di adottare quei comportamenti che lo mettono al riparo da quel rischio il risk taking è tipico dell'adolescente perché l'adolescente abbassa percezione del rischio chiunque beva alcol incluso il minore il ragazzo abbassa ulteriormente la percezione del rischio e quindi rischia sicuramente molto di più di un adulto per cui andare a parlare di bevi responsabilmente bevi un imperativo che non dà margini di movimento e di scelta ma poi responsabilmente a chi il concetto di responsabilità come capacità critica non l'ha ancora sviluppato è abusare della capacità intellettuale di un individuo che si trova in un periodo evolutivo che diciamo che terminerà 25 anni e che quindi non si trova nelle condizioni neanche di poter controbattere un eventuale elemento di giudizio fornito che però guida le scelte e per noi le scelte devono essere informate e come istituzioni io rappresento le istituzioni un'istituzione non potrà mai dire bevi responsabilmente ad un minore non potrà mai dire altro se non l'alcol non è per i minori ma spiegandolo accompagnandolo in quello che può essere un percorso anche di confronto con i pari perché i ragazzi tra di loro sono molto più bravi di noi parlano di tante cose parlano dei loro problemi parlano della depressione parlano delle dissociazioni parlano dell'uso di sostanze di quello che gli fa e di quello di cui avrebbero bisogno di quell'aiuto che magari non trovano perché abbiamo adulti che non sono più credibili il problema è la credibilità non posso dire ad un ragazzino non fumare con la sigaretta in bocca non posso dire ad un minore non bere con il bicchiere in mano oppure dicendo l'alcol fa bene il vino fa bene la birra fa bene alla salute l'alcol non è una sostanza una molecola che può essere usata per la prevenzione questo lo dice l'OMS però se mi permettete lo dice la cultura popolare lo dice con senso cioè nessuno ha mai usato l'alcol per curare le malattie o per prevenire qualcosa e oggi come oggi l'evidenza scientifica ci dice che la massima federazione dei cardiologi a livello mondiale dice l'unica quantità di alcol che è divino che fa bene al cuore è zero così come l'organizzazione mondiale della sanità e il consenso della comunità scientifica internazionale non esistono quantità sicure per la salute riguardo all'alcol e il Parlamento europeo acquisisce tutto questo e nella risoluzione del 16 febbraio dell'anno scorso che lancia la strategia di lotta al cancro dice bisogna arrivare ad una strategia alcol zero per i minori impedire la sponsorizzazione di eventi culturali musicali rivolti ai giovani impedire la pubblicità rivolta ai giovani che faccia apparire l'alcol come performante rispetto alle loro aspettative perché non hanno la capacità di giudicarla e soprattutto ci dice che bisogna fare un'attività costante e continua di informazione le donne che consumano un secondo bicchiere di bevanda alcolica incrementano del 27% il rischio di cancro della mammella siamo nel mese di prevenzione oncologica per le donne si fanno le corse si fanno le manifestazioni ma questo messaggio non viene veicolato neanche attraverso quelle associazioni che sono deputate alla prevenzione del cancro anche i libretti che vengono distribuiti dalle associazioni dalle leghe citano ancora esistono delle proprietà diciamo salutistiche legato al consumo moderato di alcol non è vero questo va sfatato è la principale fake news che l'organizzazione mondiale della sanità indirizza soprattutto all'Europa perché è la regione nel mondo in cui si beve il doppio come consumo medio pro capite rispetto a tutte le altre parti del mondo e in cui si registra la maggiore concentrazione di problemi alcol correlati entro il 2025 secondo le Nazioni Unite noi dovremmo ridurre i consumatori dannosi del 10% e del 20% entro il 2030 in Italia i consumi medi pro capite stanno aumentando e non raggiungeremo questo limite semplicemente perché non c'è ancora un'attivazione nelle strategie di prevenzione di quelli che sono gli elementi che l'OMS le risoluzioni dell'OMS dell'Assemblea Mondiale della Sanità e del Parlamento Europeo non sono state ancora canalizzate nei piani di prevenzione che devono essere aggiornati e noi cerchiamo di essere diciamo i catalizzatori di questo tipo di attività che è obbligatoria tra l'altro se aderisci ad una strategia cercando di fornire l'evidenza scientifica in contrasto alle fake news e in questo dobbiamo anche scontrarci con quelle che sono invece dichiarazioni pubbliche che molto spesso fanno male perché sono rivolti ad un pubblico generalista ma quelle dichiarazioni le ascoltano tutti anche i bambini e sono portati a ritenere che se un adulto fa così e beve allora lo posso fare anch'io invece dobbiamo accompagnare i minori in una cultura di rispetto verso se stessi di conoscenza ma anche del fatto che l'alcol non è per loro per una serie di motivi quindi se un adulto beve beve perché ha la capacità di consumare non più di quelle quantità superate quelle quantità sono a rischio il bere per ubriacarsi che usano i giovani è un bere a rischio il bere delle persone che sono rimangono solo in casa come le vedove ad esempio e che seguono il pattern di consumo del partner che non esiste più che consuma secondo quelle che erano quello che vedeva fare al partner è chiaro che è una cosa che fa male e incrementa il rischio soprattutto nelle anziane nelle donne anziane parole sacrosante da condividere non vorrei che superassimo il margine della mia possibilità di tempi senza parlare di quella che lei ha chiamato la nuova paura il mix alcol psicofarmaci mi pare che sia lei ad avere pensato alla generazione chimica tra l'altro ecco allora questo boom degli psicofarmaci tra l'altro senza prescrizione che possono essere anche pescati e recuperati dal web ecco quale altro pericolo è questo? ma il pericolo è che i giovani ricorrano all'uso di sostanze per costruire emozioni per acquisire sicurezze che normalmente sono una risposta ad un disagio che non viene intercettato allora se io mi metto dalla parte del genitore che di solito termina in un come è andata oggi a scuola il suo colloquio con il ragazzo o la ragazza beh credo che bisogna superare questo step bisogna superare e incominciare a verificare i comportamenti se una ragazza o una ragazza tendono magari a isolarsi rispetto al gruppo a compiere più spesso determinate pratiche che può riguardare anche un uso eccessivo del telefonino un uso eccessivo dell'internet un uso eccessivo appunto di qualsiasi altra comportamento perché parliamo di dipendenze comportamentali oramai e se sottrarlo a questo tipo di incremento di intensità e di frequenza di comportamenti strani può generare una reazione che è quella che poi la sindrome da astinenza da quel comportamento e se interrogato dice smetto quando voglio bisogna preoccuparsi bisogna preoccuparsi anche quando ritorna a casa e puzza di alcol e si sente perché se io entro nella camera di un ragazzo o una ragazza che dormono si sente perché l'alcol è volatile si sente se ha bevuto si sente se ha fumato mentine o tutto il resto non funzionano non funzionano con l'alcolimetro ma non dovrebbero funzionare nemmeno per il fiuto di un genitore che deve guardare deve vedere anche su quali piazze virtuali va il figlio perché nelle piazze virtuali purtroppo si acquistano anche sostanze illegali e infatti quando si ricorre poi agli psicofarmaci non è detto che si li vada a prendere in farmacia li può prendere su web ma guardate che li stanno vendendo anche gli spacciatori a un euro cioè li danno tranquillamente nelle piazze di spaccio trovate il ventino che è stato inventato a Torbellamonaca di cocaina dove con tre strisce siamo in tre a farci di cocaina quella che una volta era la droga elegante per eccellenza perché è costosa e solo per i ricchi oggi invece è nella disponibilità di tutti è ai primi posti infatti assolutamente sì nella relazione sulle dipendenze al Parlamento c'è scritto chiaramente gli oppiace la cannabis la cocaina ma l'alcol è la prima e vanno sempre associate perché l'alcol è la droga ponte abbassa la percezione del rischio mi espone all'uso di altre sostanze perché dopo la fase up di euforia di loquacità di disinibizione viene la fase down e quella fase down viene combattuta addirittura all'inizio e ingenuamente con gli energy drink quelli con la taurina con la caffeina che ti danno il senso di vigilanza però sempre ubriaco ti lasciano e se ti metti alla guida ovviamente sei un candidato all'incidente fatale o non fatale finito l'effetto dell'energy drink che mi mantiene su in una discoteca con luci e suoni assurdi in tempi di divertimento assurdi perché si incomincia tardissimo si passa poi chiaramente alla cannabis con altro contenuto di THC perché quella dello spacciatore contiene 10, 20, 30, 40 volte il contenuto di THC naturale della cannabis e poi ovviamente la cocaina che oramai è a disposizione di tutti si spaccia dappertutto allora in questa in questa diciamo in questa dimensione dei loghi di aggregazione giovanile ci dovrebbe essere un controllo da parte del genitore il genitore fa bene a chiedere dove vai con chi vai oppure andare a vedere dove va perché oggettivamente un ragazzo non ha questa capacità di discernimento e soprattutto minimizza noi invece che siamo adulti dovremmo continuare ad applicare questa nostra capacità di controllo non per quito vivere lasciare fare tutto quello che si vuole non per essere autoritari perché non serve a niente non bere non fumare non serve bisogna far ragionare i bambini bisogna incominciare da bambini perché quando arrivi l'età dell'adolescenza in cui tutto è contraddizione rispetto a quello che dico io come adulto devo trovare già una base rispetto alla quale il ragazzo che era un bambino può trovare i suoi anticorpi e trovare anche qualcosa che non sia la legge che non lo protegge 24 ore su 24 allora io capisco che il tema è così complesso che avremmo dovuto andare avanti ancora per molti molti altri minuti il nostro tempo è questo però la sua diretta conoscenza la sua disponibilità nei confronti e credo che sia giusto che sia così il ruolo in qualche modo lo pretende oltre la professionalità l'esperienza ha citato la sua esperienza nell'arco di molti anni nell'organizzazione mondiale della sanità ricordo che lo so scaffato con cui abbiamo colloquiato è il direttore dell'osservatorio nazionale alcol centro nazionale dipendenza e doping dell'istituto superiore di sanità ecco stavo dicendo da ringraziarla per la disponibilità cerchiamo di tornarci sopra il tema è complesso non abbiamo toccato il tema dei CERD del lavoro che fa comunque la sanità in questo ambito ma se lei fosse e sarà disponibile noi la disturberemo ancora e per il momento le dico grazie le auguro buon lavoro e ancora complimenti per la grande disponibilità che rimossa nei confronti dei mezzi di comunicazione grazie a voi quando volete è sempre un piacere a presto e buon lavoro dunque veramente veramente di cuore grazie a tutti a presto a presto Grazie a tutti.